E' stato l'appello a recarsi a votare, quindi a combattere l'astenzionismo, l'unico tratto comune che ha caratterizzato la chiusura di campagna elettorale del centrodestra e del centrosinistra. Le due coalizioni si sono date appuntamento a Campobasso e dal capoluogo di regione hanno sciorinato le loro ricette per l'Italia che verrà. Soluzioni che trattano tutti gli stessi problemi ma da prospettive diverse, caro bollette, crisi energetica in primis sul piano nazionale e poi sanità, infrastrutture, imprese e lavoro per quello che riguarda nello specifico il Molise. Il centrosinistra ha chiuso nel tardo pomeriggio, aprendo la manifestazione al canto di Bella Ciao. Presenti i candidati e i rappresentanti dei partiti uniti in coalizione PD, Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Impegno Civico e Più Europa. Ad aprire l'appuntamento finale sono stati gli interventi delle due candidate al maggioritario per Senato e Camera, Rossella Gianfagna e Alessandra Salvatore. Subito dopo l'appuntamento della coalizione progressista si è tenuta la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. Anche questo appuntamento si è aperto in chiave musicale ma per lo schieramento che vede uniti Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, il brano scelto è stato l'Inno d'Italia. Tutti quindi in piedi sino all'apoteosi del sì finale con la mano appoggiata al cuore. È stato il consigliere regionale Gianluca Cefaratti a fare da regista della serata, presentando uno alla volta i candidati della coalizione. Anche qui il ruolo di testa di serie è spettato ai due concorrenti al maggioritario per Senato e Camera, Claudio Lotito e Lorenzo Cesa. Cala quindi il sipario su una campagna elettorale brevissima e per questo intensa partita con il soleone in piena estate e che va a concludersi con le brume autunnali. Ci attende un giorno di silenzio, poi domenica si vota e nella notte tra l'ultimo giorno di questa settimana, il primo della nuova, sapremo chi sarà a governare l'Italia per i prossimi cinque anni.